Tutto pronto a Macerata per le festività natalizie con la città che si trasformerà, come dice lo slogan, in città d'incanto. Un altro momento ricco per Macerata, vivere insieme, stare insieme in città, stare insieme in piazza, stare insieme... è un po' questo il Natale, città d'incanto, abbiamo trovato questo slogan perché l'immagine che ci è stata regalata dall'Associazione Fabbrica delle Favole è l'immagine di una città incantata, ci piace dirlo e raccontarlo con le storie ed è questo il Natale per Macerata. Tante le proposte da quelle più tradizionali come mercatini, concerti, spettacoli di danza, il canto della Pasquella, Libriamoci, la Befana a quelle più moderne come per esempio l'esposizione dei Lego nei locali dell'Exupim. Oltre 60 associazioni, 250 iniziative, tante le giornate, Natale è un po' questo, condividere i momenti di spettacolo, di festa, i momenti di riflessione anche, ci sono incontri belli e anche il momento commerciale della piazza, il momento in cui ci si incontra sulla pubblica piazza. Da sottolineare è l'albero di Natale, l'albero di Natale che è stato regalato dai ragazzi dell'Ipsia di Corridonia con la sezione di Macerata e che hanno fatto uno studio per l'allestimento, per l'abbellimento attraverso uno studio sulle luci e la posita delle luci in maniera della gestione domotica delle luci. È un'ipotesi di un progetto che abbiamo fatto con loro che ci piace perché dà ai ragazzi lo spazio per esibirsi, per mostrare le loro capacità di ricerca. Grazie.